ciao ragazzi e bentornati sul mio canale andiamo avanti con Plague Tale Requiem un altro capitolo un'altra puntata per vedere dove ci porterà questa avventura di Yugo e Amicia ci siamo scontrati con il conte l'ultima volta Yugo ha scatenato di nuovo i topi, i ratti abbiamo ucciso la contessa ma ahi noi abbiamo perso nostra madre la contessa ce l'aveva già uccisa prima e prima di cominciare come al solito rinnovo a tutti quanti l'invito a iscrivervi al canale e anche a lasciare un bel mi piace al video sono cose sempre gradite così mi aiutate a crescere e mi supportate nella serie e anche nel canale e detto ciò possiamo partire direi e vedere cosa ci aspetta che è un'altra cosa dire qualcosa guarda me, per favore ho bisogno Amicia, non possiamo restare qui non mi parlare abbiamo bisogno di lasciare Hugo, rispondi Amicia, abbiamo bisogno di lasciare dove? il harbour siamo lasciati questo posto I want rest You can rest when you're safe We will never be Lucas, never There can be no peace for us Look at him I'll lead the way Don't think Just follow me I'll be your path for the both of you I'll carry you if I must But I'm taking you out of here Take a deep breath E' anche una bella storia di amicizia direi Al di là di tutto il resto Vediamo se riusciamo a uscire di qua Sì, una lussazione Don't move It's gonna hurt It's gonna hurt Hugo è sconvolto e è rimasto arrivo eh faccio un giretto per vedere se c'è infatti vedete che c'è qualcosa riusciamo a migliorare qualcosa non lo so ok sono di là quindi e andare di qua eh volevo vedere scusate volevo vedere se riusciamo a migliorare ancora qualcosa no abbiamo pochi pochi rottami quindi niente vabbè proseguiamo è crollato tutto eh allora qua è chiuso e con la fionda possiamo direi aprire non so se solo per prendere qualcosa nelle casse o anche se per spostarci vedremo adesso dovrei riuscire a entrare dall'altro lato esatto che dobbiamo raggiungere quel un'altra cassa prima però scusate ragazzi volevo vedere che questo si può spostare secondo me c'è qualcosa dietro credo eh magari c'è qualcosa da recuperare c'è qualcosa collezionabile cosa un messo io non posso non posso non ci oh per favore per favore per favore come ho fare questo per favore per favore per favore quello ha *** chissà tutto tutta e beh Eh beh, sì, direi che è la parola più appropriata, caos. Allora, dobbiamo... Si è sfondato la porta. Va, devo spingerlo o tirarlo? It's stuck. It's too high. There's no other way, Lucas. Mesia, let's push and see what's behind. Ratti, mamma mia ragazzi Eh beh It will kill the sun What Sun killer The light devourer It's the nebula the old texts talk about, it's real I'm home No, no This isn't home Hugo, look at me It's not him, Hermesia It's the macula talking trying to fill the void Left by your mother's death I, I should have saved her But We can still finish this You hear me, Hugo We can find that bastard count And kill him No, enough Amicia, we need to leave this damn rock And take him away from here He's drowning Amicia, focus You need to push back Talk to him Keep him afloat He meets you All right All right Ma dobbiamo attraversare tutto questo topaio Porca miseria ragazzi Non ce la facciamo mai più qua Ma quanti sono Qua c'è la sagra del topo Speriamo che non si spegne Stiamo lontani dai fumi C'è più lontano di questo Cosa devo fare Mamma mia ragazzi Speriamo che ci sono So what Move I think He's doing it What I felt his body Spasm Right before it'll burst I told you His bond with the macula Is getting stronger I know you're still there Hugo Please hold Usciamo da questo posto Più in fretta possibile Che Non se ne può più Stiamo di qua Porca miseria No It cannot be How many are there inside Yes I'm here Hey I'm waiting Let's go Lucas Now Yes Come Hugo No I'm staying There is nothing here for you This is home This is Stop You're coming with me Whether you want to Or not You hear me He's coming with me You made it so angry They're coming Run Liamo Andiamo Si No 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 Non mi volto Guarda Andiamo Andiamo Mamma mia ragazzi Mai visti tanti topi Tanti ratti Dove è andato Yugo Andiamo Di là No Dove è andato No 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 See There's still light Sì, è il nostro sangue, è tu. Sì, è il nostro sangue. Sì, è il nostro sangue. Vabbè, facciamo quello che ci dice. Sì, è il nostro sangue. Sì, è il nostro sangue. Sì, è il nostro sangue. Vabbè. Li ha sentiti, li hanno sentiti. C'è ancora il nostro Yugo, non è sparito. Al contrario di quello che si possa pensare. Perché c'è tutto. Eh sì, sono pieno. Vabbè. No, se io sparo... Scusate un attimo, eh. Scusate un attimo. Ce n'erano altri due, dove sono andati? Volevo però prima... L'altro è rotta, amiche. L'altro è Ligord. Beh, ce n'è ancora uno. C'è un'altro è stato un attimo. C'è un attimo. Voi! 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 Asi io! Voi! 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 La dalla nostra! Voi! Buone un attimo. Andavo se c'era qualcosa da prendere Girovaghiamo un po' ragazzi, giusto pure, giusto per Qua non si può andare Eh, vedi, queste ci potrebbero servire Episanguis Questa non c'è niente Qua c'è qualcosa Il vasetto che Qua mi sembra di aver visto qualcos'altro Ho visto male No, c'è un'altra cassa, vedete No Allora, adesso possiamo andare avanti direi Passando di qua Eh ma sarà pieno di guardi ancora Prima di arrivare al porto O almeno a quello che ne resta Perché a questo punto qua Allora uno è lì E uno è qua We're getting out of here We're going to find Zephia Sail away And start a new life E uno è qua Si Sì 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 Questi sono grossi, eh? Siamo una, anche se significa rinforzare la stessa volta al costo. Ci rinforziamo. Lo so. Come along, up. I'll try, up. Allora, quando passa? C'è ciò che c'è? Soi, keep going. Oh, no! Il si è morto! No, non possono salir di qua, ok? Credo, eh. No? Sti topi devono imparare a salire, però, eh. Ehi, Lucas, allevate, eh. Guarda che si è ripreso un po', eh, Yugo, eh. Si è ripreso un po', almeno. Ma è tutto rotto, cosa chiudi, amici, eh. Ce l'ha! Ah. Ma è tutto rotto. Non mi credo che il nostro countessi è morto. Ho sentito il countessi così devastato che non sarà mai qui per il giudere. Le hanno costruito un gallo sul di spettacolo di Arno. Si sono giudere le pietre? Chiedi che vedere. Si, anche io. Non è morto. Ne ha bisogno di noi. Non abbiamo tempo. ci tocca salvare ci tocca salvare quel pirla dove sono andate le guardie questo credo che possiamo però volevo aspettare che tornasse al buio per farlo prendere dai topi dai ratti eccolo eccolo lì ottimo era quello che cercavamo di fare tutto pieno adesso qua come ci vado possiamo attirarli no questo si la porca mi se eh non l'ho visto ragazzi vabbè era proprio lì dietro ma porca miseria ma non devi metterti dietro lì eh cioè anche tu potrebbero avere un po' di potenza. E' spero che ci restano qui dopo che sono tornati. Ciò dovrebbe dependere di Hugo. What's making that noise? How's that possible? Non è successo niente, tranquilli, non avete visto niente, tutto a posto. Dai, su, siamo scappati, non ci siamo più, te ne puoi andare a casa. Allora, io proverai di nuovo con Yugo a cercare di, questo già ci è piaciuto, rimaniamo qua al, Yugo dai, mi spiace ma, tutti soli. Ok, fermiamoci qua per adesso. Qualcuno l'abbiamo. Ok, fermiamoci qua. Il problema è che devo andare dall'altro lato, perché di qua non vado, infatti, per passare dall'altro lato c'è un ponte. Ok, credo, non so. Guardo solo se c'è qualcosa di qua, ragazzi, poi andiamo. Non c'è niente, ok, quindi, credo che, credo che si possa andare, no, c'è una cassa anche qua, vabbè, prendiamola, già che ci siamo. Vabbè, che fai, non la prendi, eh? Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. No, è solo, no? Vabbè, vabbè. Quello che volevo capire francamente Vediamo un po' che strada fa sto qua ma è difficile riuscire a distoglierlo Sono qua incazzoso anche Ma sei riusciti va a prenderla C'è neanche niente per distrarli Porca miseria Questo ci vede Questo ci vede C'ha un secchio in testa Proviamo con la balestra però appena si gira anche l'altro Altrimenti ci vede l'altro Ci ha visto comunque Mi vada a fare un giro intanto va Così non ci rompi le scatole Recuperiamo la freccia Dobbiamo passare di qua Ok Per adesso siamo fuori Però Io credo che Dove ero Dobbiamo cercarlo Dobbiamo trovarlo E purtroppo Salvarlo Non è che ne ho molta voglia Ok Altra freccia Lì c'è un banco Qua credo che si esca Qua non c'è niente Banco vabbè Non ci serve perché Comunque Tanto vediamo se possiamo Sì qualcosa possiamo migliorare Munizioni al camp Per far esplodere l'odoris A contatto con il fuoco Uccidenti nemici senza armature Ma io Andrei per la fionda Ragazzi Secondo me Miglioriamo la fionda Così Ce l'abbiamo Ok Possiamo andare Avanti Vediamo se c'è qualcosa di qua Sì Spoltello Questi In casi estremi Ci sono di grande aiuto Direi Ci permettono di uccidere i nemici Normalmente Amicia A mani nude È una pippa Eh sì Mani nude Non riesce a far niente Cioè non è capace di uccidere I nemici Ok Andiamo avanti Sì Beh Stavamo a scarci Ah è là Guarda Sono d'accordo Bella truppa Allora Dove dobbiamo salire Di là Presuma Sono contento che Hugo si è ripreso Un po' Almeno Qua siamo Dall'altra parte Dove eravamo Prima Giusto E quello lì Quel banchetto Ci è sfuggito No Perché Probabilmente Devo Spostarci Ci sono un po' Di risorse Dentro Almeno Andiamo a prendere Dai Gira Oh magari si va Si esce da lì Siamo il coltello Prendiamo delle risorse Forse avrei preferito Tenere il coltello Vabbè Forse era meglio Tenerli i coltelli Come No Non voglio andare Al banco Beh Non è stato male Direi Dai Cos'è? No voglio andare Quinti Giovane Giovane Venga 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 Io credo Che si debba Andare di là Ehi Vabbè Non lo so Sapete Sì Sì Vieni a scendere di qua Ok La strada è questa Vediamo se riusciamo a liberarlo 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 No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh 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 no. no! 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 kick their asses till their vincemate! ah! ah! try and i'll kill you! don't! they won't have you Hugo i promise! ah! l'ai dei tii! ah! 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 l'abbiamo fatta! ah! ah! aspetta un attimo che devo recuperare un po' di cose però eh! eh! e dai! mamma mia che... che incubo! allora ho visto delle cose da prendere in giro! adesso me le ha tolte tutte sto maledetto eh! adesso non ci sono più eh! ecco! ok! vediamo se c'è ancora! qua no! la freccia! qua credo di aver recuperato tutto ormai! adesso arrivo eh! giovine! giovine! adesso arrivo! ok! eh! credo che... dobbiamo salvare sto... sto fenomeno qua! no! ancora! no! Hugo! pensaci tu! ti ha rotto le scatole eh! poi è bello giocare ma poi... è rimagrito anche eh, un po' dimagrito Hugo says it was his It's Lucy Sì. Sì. Come back. We must go. Now. I see. I'll take it from here. You, come! She's never coming back. I know. I wanted to tell her. A lot of things. Me too. ma si conosceva tutto, già. Tu è la grande donazione. La te ha amato la forma che sei, la forma che hai fatto. Siamo vivere, e siamo sanati. Le scuole? Siamo mantenendole, così che non vi dimenticiamo. E così che possiamo accettare. Sì, fino a che non ci succederanno più. Eh beh, parole sante, ragazzi. Bene ragazzi, io direi che per questo episodio ci fermiamo qua, capitolo finito. Quindi, niente. Come al solito, prima di salutarci, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, lasciare anche un mi piace al video, due gesti assolutamente gratuiti e che non comportano nessun impegno da parte vostra, ma che per me sono di grande supporto e mi aiutate nel canale. Per il resto, grazie a tutti per aver visto questa puntata e ci vediamo nella prossima. Ciao a tutti! Ciao a tutti!